ciao a tutti ragazzi benvenuti o bentornati sul mio canale come vedete oggi ritorniamo sui football 2024 per andare ad analizzare il mio gioco che sono usciti quest'oggi come ogni lunedì e poi i classici eventi prima andrà avanti ormai lo sapete qualora non l'aveste ancora fatto iscrivetevi al canale per non perdere i miei contenuti e lasciate sempre un bel like di supporto sapete quanto i like sono stra fondamentali mi raccomando ragazzo ma adesso bando le ciance e andiamo a vedere i nuovi giocatori ormai siamo abituati a vedere due pacchetti almeno alla settimana con giocatori speciali con giocatori big time epici quindi facciamoci il callo è così c'è poco da fare pacchetto dell'inter e pacchetto dello spanish league attaccanti quindi zamorano van mister roy e luis grazia parte vannister zamorano luis grazia non so mai visto giocare non so manco chi è per questo riguardo in video lo so però al momento non ne ho assolutamente idea andiamo a vedere i giocatori dell'inter dove nel pacchetto proviamo lautaro ovviamente c'è la noglu devrai turam pavard acerbi quadrato tutti i giocatori dell'inter e carta speciale 11 giocatori dell'inter la carta speciale poi tutti i giocatori penso della della serie a e allora andiamo a vedere subito lautaro martinez opportunista il booster accenna sul controllo palla comportamento offensivo finalizzazione accelerazione e basta più due mi pare sì più due e allora sempre il solito l'autano 31 livelli di crescita big time 24 maggio 2023 carta oggettivamente carina istinto d'attaccante su booster abbiamo premesso dove si va a bustare il giocatore abilità veronica taglio le spalle giro colpo di testa tira a scendere lancio lungo felizzazione acrobatica tiro di prima passaggio filtrante astuzia e spirito combattivo è sicuramente una bella carta diventa un animale con con i 30 livelli di crescita veramente si alza veramente di tanti punti il problema fondamentale sta che non ha doppio tocco ed è strano come un giocatore del genere non abbia una skill importante come quella perché comunque molto tecnico passaggio della 65 stanno perché poi comunque lui sa giocare bene il pallone sa passare bene il pallone ahimè l'ho visto giocare contro la roma e devo dire la verità è cresciuto tantissimo secondo me è un giocatore completo passaggi magari un po bassi e non ha senso per quanto riguarda tutto il resto è un cartone è fortissimo ragazzi poi c'è c'è un oglo che ho visto tramite qualche qualche screen completo è un fottuto animale un tale linee è bello 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 completo la pecca che hai che non difende molto è tanta aggressività come nella realtà fondamentalmente big time 21 agosto 2021 quindi rispetto all'autore lui è una carta speciale di saliente a due anni fa anzi tre anni fa ormai e ripeto anche qua molto forte lui cappella di ciao no glue e che a forma fisica incostante però vabbè valutazione fisica b ci rimarrà sempre e poi comunque molto lento calcio di punizione quindi sui calci di punizione fine di azione si becca un busto del più due e potenza tiro che fa 88 di base poi abilità giocatore di imbalzo interno che è una skill a giro da distante tiro di collo tira a scendere lancio lungo passo di un filtrante calibrato cross calibrato e sarà giro e leader bella carta può fare tutti i ruoli del centrocampo compreso anche l'esterno d'attacco cosa che non vi direi mai di fare perché non può essere messo esterno d'attacco però centrocampista centrale trequartista è perfetto se non è più trequartista piuttosto che centrocampista centrale è una gran bella carta oggettivamente questa è una gran bella carta in ultimo del vai sviluppo lentissimo non è fenomenale vi dico la verità come quanto fa questo in game vediamo un attimo 96 97 addirittura fa 100 un po troppo booster sulla difesa più diversi dei giocatori comportamento difensivo contrasto accelerazione e salto va bene però mettetevi in testa che non sarà mai un velocista contro la corpo 57 e sviluppo per me la più incontrista però va bene così è del 11 maggio 2022 a carta risalente e niente carta interessante ma rispetto agli altri due secondo me ha qualcosina in meno come giusto che sia la vita del giocatore colpo di testa passaggi di prima marcatore intercettazione muro dominio palle alta scivolata leader e spirito combattivo tutte le abilità perfette per un difensore centrale ripeto carta molto bella anche questa però sicuramente gli altri due sono qualche spanna sopra valutazione generale di questo pacchetto raga è come quello del milano settimana scorsa mi sembra che il migliore dei tre sia c'era un augulo a livello di statistiche l'autaro probabilmente quello più completo devrai non mi fa impazzire ripeto carta interessante ma secondo me sono usciti difensori molto 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 più forti e possiamo pensare banalmente a cannavalo che c'era fino fino a ieri negli attaccanti qui questa settimana insomma siamo pieni di giocatori speciali come dicevo prima van nister roi rapace d'aria super tronco modo ammizia ragazzi controllo corpo 60 di base questo marchio vada fa 70 ma proprio se voglio essere positivo fa 70 controllo corpo fa una fatica piuttosto utilizzate a land non buttate via volete questo pacchetto che non c'è senso comportamento offensivo molto alto già a questo punto mi ritenevo giro di settimana scorsa per dire una finalizzazione 86 di base insomma è una è una carta proprio di peso da attaccante di peso avanti tiro più due il suo boost più giro statistica giocatore controllo palla finalizzazione potenza di tiro e contatto fisico abilità del giocatore veronico colpo di testa pallonetto minato tira salire fine edizione acrobatica colpo di taccato di prima posto di prima possa sconarcare e specialista dei rigori però come attaccante c'è anche le abilità giuste il problema che davvero questi questi attaccanti di peso qua purtroppo con sto gameplay non renderanno mai alto poi c'è chi li fa andare a 3000 è per l'amor di dio però comunque secondo me per i giocatori che per i player che magari giocano e che sono bravi ma non fenomenali questo giocatore può essere addirittura un ostacolo secondo me per quanto riguarda invece zamorano rapace dare un altro giocatore che ha lo stesso discorso praticamente di van di steroid solo questa di tutta più basso quindi secondo me può giocare un attacco a due vi dico la verità e si gioca se giocate a tre centrale d'attacco ovviamente però volete mettere questo giocatore con un romario con un cantona secondo me non vale assolutamente la pena andare a girare questo pacchetto è un secondo giocatore sicuramente molto interessante ma c'è stato di meglio anche nel recente passato il booster più due sedi si giocatore fine di azione colpo di testa salto e contatto fisico le abilità sono quattro in croce colpo di testa per un attominato tiro a salire lancio lungo off in gestione acrobatica tiro di prima passaggio di prima e dominio palle alte non mi fai pazzire vi dico la verità eccolo qua luis garzia ha la prolifica e addirittura può giocare soltanto esterno pensate un po voi ha il booster sul dribbling opposto sostretto velocità e controllo corpo in uno specifico della gestione del pallone sembra addirittura comunque abbastanza tecnico altezza 1,77 non è altissimo quindi mi fa pensare a un body type di quelli proprio sbuscianti abilità giocatore doppio tocco ovviamente il sombrero tagli le spalle giro controllo di suola colpo di testa tiro di prima passaggio di prima passaggio filtrante esterno giro e astuzia vabbè a me sembra interessante dovete giocare con gli esterni per poterlo pullare questo secondo me perché altrimenti non ha assolutamente un senso logico vediamo nel pacchetto chi c'è prima che insomma magari non lo sapete ci sono joe felix rodrigo attenzione lo dico che può giocare soltanto esterno attorno alla versione di lo dico soltanto esterno iago aspas berenguer savio josé luiz morales e poi tutti gli altri ragazzi tutti gli altri carta speciali interessanti ma secondo me non fenomenali questo direi che è il secondo pacchetto che si può schippare a mani basse dopo non mi ricordo quale c'era che tra l'altro quello di beckham per dire che si poteva schippare tranquillamente con rivaldo e vendieta insomma questo è un altro di quei pacchetti dove ragazzi vi andare e si aspetta settimana prossima nel complesso tutti e due per chi non ti fa inter è inutile andarci a pullare cioè chi ha preso le auto settimana scorsa o banalmente pulla ogni lunedì per gli epici queste carte qua dell'inter le lascia qua e queste qua soprattutto non mutateci una moneta che sia una perché non ne vale assolutamente la pena sicuramente sono giocatori che per chi sa utilizzarli va bene ma secondo me per l'ottanta per cento della dei player ma di stare zamorano e risgrassia non fanno fare il stato di qualità queste l'inter ripeto dovete essere tifosi dell'inter per poter pullare secondo me altrimenti si può schippare tranquillamente e torniamo ai soliti eventi con lo spanish club qui ci portiamo a casa il programma aggiunta abilità e le 50 monete football probabilmente andiamo a vedere un attimino sì 50 monete e tre programmi aggiunta abilità che dovrò fare per poterli portare a casa almeno qualche probabilità magari sperando in un in un doppio tocco poi c'è la round 1 sempre con l'evento caratteristico dell'inter e lo spanish club quello dove ragazzi mettendo quanti più giocatori possibili della della liga spagnola avete al drop più alto per poterli completare l'evento con 60 mila gp totali e soprattutto un programma aggiunta abilità che non fa mai schifo niente in quanto riguarda i premi settimana comunque sono quattro programmi aggiunta abilità 50 monete football e poi comunque anche 60 mila gp non è male non è male considerando che comunque c'è sempre poco da farmare e niente ragazzi non c'è più nulla da vedere questi sono i pacchetti ripeto easy skip assolutamente per chi ripeto quanti fa inter o perlomeno non giocano attaccanti di peso del genere lasciate perdere e poi eventi vabbè insomma abbiamo già visto che comunque qualcosa da farmare c'è come al solito detto questo fatemi sapere cosa ne pensate io vi auguro una buona giornata come sempre buon game a tutti ciao ragazzi